innanzitutto grazie per esservi iscritti al canale negli ultimi mesi è cresciuto se non lo avete ancora fatto potete cliccare su iscriviti e rimanere comunque aggiornati sui prossimi video di questo canale ho visto molto interesse sulle prove relative al preamplificatore più chiacchierato di questo periodo diciamo e ho cercato di dare alcune nozioni tecniche che i producer e i sound engineer moderni spesso ignorano perché magari concentrati sull'uso di sistemi prettamente software sono però nozioni sono skills come dicono oggi importanti anche per chi lavora soltanto con i plug in e soprattutto i plug in che emulano l'hardware il canale come sapete a scopo divulgativo ed è gratuito e non sono come ormai avrete capito interessato a speculare su argomenti di dissing né sulle persone né sui prodotti che non utilizzo poi effettivamente qui in studio non ho mai reputato interessante parlare male di una persona figuriamoci di un plug in o di un outboard behringer in quel caso ha suscitato un interesse in me e l'ho acquistato proprio come ho fatto anche con i sintetizzatori di behringer ma le sorprese purtroppo non sono state positive ho argomentato il più tecnicamente possibile ed educatamente possibile le mie aspettative ma alcune reazioni sono state come dire inaspettate neanche avesse insultato poi la madre di qualcuno altre hanno messo in discussione la fisica stessa posso comprendere l'ignoranza dietro alcuni argomenti personalmente ho sempre seguito la regola del chiedere perché chiedere non costa nulla oggi abbiamo uno strumento potentissimo veramente potente in grado di darci subito delle risposte sia tecniche sia meno tecniche ma risposte discrete che ci possono aiutare a non mostrare magari le eventuali lacune culturali è uno strumento incredibile vi assicuro si chiama google ed è gratis funziona benissimo da decenni e apre spiragli didattici immensi soprattutto se poi mastichiamo anche un po di inglese possiamo accedere infatti a miliardi di informazioni rispetto alla sola lingua in italiano prima di fare qualsiasi domanda o anche un semplice commento magari una ricerca con google potrebbe aiutare magari non conosciamo l'argomento a fondo o non conoscete ad esempio il mio lavoro quello che faccio anche se mi presento sempre all'inizio dei video questo è un consiglio che funziona comunque in ogni campo lavorativo non soltanto nell'home pro recording è fisiologico quindi che alcuni di voi si sentano in dovere di criticare qualsiasi cosa io dica o affermi o anche essere in disaccordo con le teorie della fisica classica e credo che comunque sia importante sapersi confrontare un po con tutti vi chiedo quindi soltanto il massimo rispetto non soltanto per me stesso ma anche nei confronti dei miei ospiti o di chi segue e discute civilmente gli argomenti di questo canale divulgativo ho deciso quindi che non risponderò più a nessun utente che non sia in grado di rivolgersi a me o ad altri sempre sul mio canale o sui miei social in modo adulto ed educato né tantomeno nascondendosi dietro un nickname per giustificare il linguaggio che non userebbe neanche verso il proprio fratello o cugino ho ormai raggiunto i 52 anni non ho voglia di controbattere su questioni legate alla mancanza di informazioni in questo campo perché veramente non ci sono giustificazioni la curiosità come ho sempre detto è un sentimento divino ed è ben accetta e rappresenta il segnale di un'intelligenza profonda dandomi anche modo di approfondire proprio alcuni argomenti il fatto di essere sui social e di poter disporre di un contatto rapido e diretto con me non giustifica in alcun modo la mancanza di rispetto questo è un consiglio che do a tutti e fa parte di un concetto antico soprattutto antico su internet che all'epoca si chiamava netiquette questo spazio quindi è per tutti ma non per tutti mi riserverò quindi la facoltà di cancellare o bannare qualsiasi commento offensivo i vostri feedback vi ricordo per me sono molto importanti mi guidano nella scelta degli argomenti per il prossimo futuro continueranno le recensioni dei plugin delle do e di altro materiale che reputo utile nel nostro lavoro avete visto spesso altri protagonisti illustri nei miei video alan parsons bobby osinski federico faggin negli ultimi giancarlo del sordo marco vannucci e tanti altri tanti professionisti di questo settore che conosco e stimo da tempo e che riservano altrettanta stima nei miei confronti la sorpresa è che nelle prossime giornate vedrete una serie di video tecnici per introdurre e spiegare alcuni concetti di elettronica e di fisica che non vengono trattati magari da altri canali di audio recording perché oltre ad essere complessi vengono spesso giudicati noiosi da chi vuole imparare tutto e subito mi farò accompagnare in questo percorso da marco vannucci uno dei massimi esperti di mastering in italia e vi ricordo come sempre che il vostro feedback sotto i video è fondamentale iscrivetevi al canale e buon divertimento con la prossima serie tech talk